Nato di rosso e quindi suppongo che stia andando Ah io come al solito ho il terrore perché da quando si è tolto quell'episodio Io voglio sempre stare due secondi a guardare che quel cazzo di coso rosso rimanga lì Cioè non voglio più scoprire di andare là e vedere e fare No, perché? Perché? Mi sto curando un attimo i Pokémon rimanendo fermo Non puoi curare i Pokémon Come non posso curare i Pokémon? Come non posso curare neanche una pozione? No, è tempo, è tempo quello, te l'hai detto Allora sto fermo per 5 secondi Allora via, via Benvenuti, facciamo i saluti mentre ci muoviamo perché Lorenzo non ha capito ancora le regole del gioco Al dodicesimo episodio Ancora non si sono più delle regole del gioco Pensavo che pisciare in una bottiglietta e tirargliela addosso per curarli si potesse fare Santa miseria, dai No! Ora, che ci vuole? Ho scontato la mia pena anche troppo, è stato fermo fino adesso Vai, vai, ti puoi muovere, vai Vai, vai, muoviti Muoviti Muoviti, tizio, keep walking Muoviti, amico C'è uno che dice keep walking ma non ha visto che sono in bicicletta, non se ne è accorto Glielo spieghi Ah, è vero, anche io sto camminando, grazie, non mi ricordavo di avere la bicicletta Sei drogato Questo perché rompiamo la quarta parete e se facciamo scoprire a tutti che noi stiamo registrando letteralmente il giorno in cui esce Oggi è lunedì 3 settembre e sono le 11.46 del mattino quindi il video uscirà probabilmente questo pomeriggio nel primo pomeriggio Sì, oggi è un giorno particolare Siamo arrivati purtroppo a questo punto Di solito ogni tanto riusciamo a farci un po' di backup ma oggi proprio stiamo decorsa Oggi non ci andava, oggi siamo sentita matta, ha detto vabbè fammone uno, fammola così come i pro, fammo giorno per giorno Almeno abbiamo le notizie fresche ma non è successo un cazzo in questi giorni a parte che ieri sono esplose delle tubature vicino a casa di Lorenzo Praticamente la guerra dei mondi era diventata l'asfalto lì Si stava gonfiando l'asfalto da sotto, era inquietantissimo Era qualcosa di bellissimo Sto scontrandomi contro degli allenatori che sono fatti apposta per allenare Per allenare, dicevo, il mio bellissimo evoluzione di pesce rosso Cui nome mi sfugge Anche io Seaking Seaking Cioè io ho beccato un Charmander, un Flareon e adesso un Golem che però devo togliere assolutamente il povero Squirtle perché ha 20 HP Quindi ci mandiamo, ci mandiamo medusa Che è salito a bucio de culo Direi che è ora di allenare morto perché è quello con livello più basso Se escludiamo la mia puttana delle macchine nascoste, ovvero Beedrill Cosa? Shellshock si sta evolvendo? Sta diventando un War Turtle Tu 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 Ma che è un'ambulanza quella? Che è l'evoluzione? Un'ambulanza Perché è paralizzato il mio morto? Ma che cazzo dici? Quando mai? Boh, il mio gioco si droga Questi falsi invalidi Questi falsi invalidi Non è mai vero Si muove benissimo Nel frattempo Wigglypuff prende a schiaffi il mio verme Detto così è bruttissimo Ma non fa niente Brutta come scena Vai con Thunderwave E avvolgiamo Wigglypuff con la mossa Vincente diciamo che rompe il gioco Paralizzato più Avvolgibotta Non si muoverà mai più Avvolgibotta e paralisi È qualcosa di speciale Non si muoverà mai più è semplicemente finita basta È morto Ti rendi conto quanto cazzo era rotto sto gioco Un modo c'è per sfuggire Se io misso un wrap Preghi la madonna Sì ma nel senso A parte che mi pare che abbia tipo 90 Di precisione quindi è molto difficile Emissarlo Ma poi è anche paralizzato Quindi capace pure che quella volta Che è paralizzato Non si può muovere Esatto È per quello che non dite alcuno È morto Che ci voleva Niente Ci potrei fare la lega Così Manda Drowsy Vuoi cambiare Pokémon? No Beh Drowsy al 20 Non serve neanche la strategia Gli faccio Bubble Beam E lo ammazzo No non è vero Serve tanto la strategia Santo cielo Cambia Pokémon Aiuto Mi picchiano Questo Drowsy è cattivissimo Piede sta capocciata E muori per cortesia Grazie Mamma santa Che spavento Gast li lasciamo Hypno Perché sì Confusione E ciao a Gast Intanto sto contro uno Slowpoke Che è uno di quei Pokémon Il cui sprite è spettacolare Devo dirlo Mi piace veramente tanto Lo sprite che hanno fatto Invece lo sprite dietro di Pidgeot È qualcosa di incredibile È veramente ciccione Cioè tu lo vedi È proprio da abbracciarlo Da fargli il Sul collo Che bella immagine Oddio non mi ricordo Dove l'ho preso Seeking Ah nella grotta di Iglet Ok Nella grotta di Iglet Perché sono in quel percorso Che sta andando verso La grotta Oscura Della morte Sì E mi sa che È la prima erba Che incontro Non mi pare di aver incontrato Erba nello scorso episodio Quindi è a posto No ma comunque Quello è un altro È un altro Percorso Rispetto all'erba Vicino a Celestopoli Cioè ci sta dell'erba Proprio vicino a Celestopoli Sulla destra Però quello è un altro Percorso ancora Va bene Perfetto Allora posso catturare un po' E anche E anche non fosse Ti do io Il bene tacito Perché probabilmente Lo farò anche io Cioè chi se ne frega Non Poi adesso Ci trovi Mewtwo Ti vengo a casa E ti do uno schiaffo Anche perché tu hai ancora Delle Master Ball Certo Quindi io Se mi arriva Mewtwo Io lo catturo dritto Non aspetto neanche un secondo Mannaggia Orsi Vuoi cambiare Pokémon Sì Voglio allenare culo Certo che mandare uno Zapdos Contro un orsi Ci vuole una cattiveria Che ha del E fargli fulmine Ci vuole una cattiveria Che ha dell'indicibile Invece sto contro Lo Snorlax Anche questo signore Come quello della MN Anna Mi sta mostrando il pene E il suo pene Sta dormendo Il suo Il suo grasso Snorlax Si è svegliato Cioè è incredibile Snorlax Che il Pokémon Che dorme Ci ha Si sveglia in due turni Eh ci si sveglia in due turni E il mio Sei turni Sette turni Ci ha voluto D'altra volta Santo Dio C'aveva sonno Vai Mandiamo Hypno Contro Jolteon Ma chi se ne frega Ma si Sentiamo Jolteon C'ha un corpo stranissimo Tipo lo asfaltiamo Oh Eh Ha resistito Accipicchia Se mi paralizzi Ti do uno schiaffo Alla mamma Ok Ok Non mi affraggio Uno schiaffo Alla mamma Certo Vediamo un po' perché Ennesimo gli aveva insegnato Una bella minchia Gli ho insegnato Che schifo Ah Una bella minchia Eh sono contento Che schifo Allora Anche io contro un orsi Pensavo di aver insegnato Tipo fulmine a Aspetta che c'ho i punti Che mi stanno toccando La bocca E mi sta venendo Inconato Perché nel frattempo Facciamo un po' di contesto Ti sei sfasciato Per sempre Allora Sì Io mi stavo lavando i denti Un giorno Come faccio tutti i giorni Per tre volte al giorno E a un certo punto Ho sentito un crack E ho sentito come La cosa di una grandezza Di una noce Dentro Sopra la lingua E ho detto Che cazzo è sta roba Cioè Porco Giuda Che me sono mangiato ieri Che è rimasto addirittura Un coso così grande Vado a toglierlo E sento che la consistenza È strana Cioè È quella di un dente Ed effettivamente Era un dente Era Vado a scoprire Con immensa gioia Che il mio dente del giudizio In alto a destra Si era spezzato in due Ed è stato molto molto divertente In realtà per niente Però è stato molto molto divertente Perché il dente Si è cominciato Praticamente a limare E E sono andato a vedere Che il dente Praticamente è arrivato Ti vuoi svegliare Maledetto Pidgeot Tutto questo Un viper Mi ha addormentato E pochi giorni fa Sono andato Sono andato a Farmi togliere Questo maledetto dente Che È stato fatto Con una cattiveria Che io non mi immaginavo Per niente Perché io mi immaginavo Tipo Quei video su Facebook Dove vedi Il Il coso che ti fanno Il taglietto sulla gengiva Te lo tolgono tranquillamente Invece questo qua Mi ha anestetizzato la gengiva Mi ha messo Una specie di mini piede di porco In mezzo alla radice Del Del dente del giudizio Ha tirato fortissimo Mi ha preso un colpo Sul momento Ti ha dato uno schiaffo Fa Esci Satana Da questa bocca Sì Ho detto Santo Dio E mi ha tolto Un gold Bellissimo 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 L'hai già incontrato Per lo meno No Per lo meno Non è un pokemon D'acqua però Non ce la facevo più Santo Dio Basta Con i pokemon D'acqua Però è un pokemon A cui serve L'acqua Sì ma Gli famo raffica Che in questo gioco È di tipo normale Quindi Io me la sto rischiando Raidon contro verme Ah ok niente È morto In un secondo Perfetto Ah vabbè Moltres Diciamo che proviamo A batterlo con verme Ma sì Dai E abbiamo preso Oddish Sì Evviva E lo chiamiamo In onore di un ex Giocatore della Lazio Lo chiamiamo Massimo Che c'era un giocatore Della Lazio Si chiamava Massimo Oddo Quindi Massimo Oddo E però Questo lo chiamiamo Massimish Massimish Oddish Perfetto Massimish L'hanno sdragliata E guarda Nel frattempo Moltres Sta cercando Di colpirmi Con delle ruote Di fuoco Ma non riesce Quindi ricorre A beccata Mentre io Lo sto ricoprendo Di bolle Gli sto sbavando Addosso Sostanzialmente E adesso arriva Squirtle Cambio pokemon Sì Sempre con una Cattiveria Che ha dell'indicibile Verso questi pokemon D'acqua Sempre piccoli Mando Moltres Mando Zapdos E gli faccio fulmine Che a me viene Sempre in mente La scena del video Di marco merrino Quella dove ci sta Ha fatto l'allenatore Di pokemon Ultrasole Il montanaro Contro l'allenatore Del gioco Che tira fuori Arseus Non l'ho mai visto Te lo devi vedere Te lo devi vedere Bellissimo Non mi fa impazzire Non mi fa impazzire Merri Ti fa impazzire Mercurino Alleniamo Alleniamo un po' culo Che è un po' sottotono Rispetto agli altri Don't you dare Qualcosa Non ho fatto il tempo A leggere Questa tizia Mi ha detto di non osare Fare qualcosa Non parlare di mia madre Mai più Mai più Gengar al 23 Riuscirà a sopravvivere Gengar Ha Asato fuoco all'energia Gengar No Gengar Ma che ne sai Magari tu stai assumendo Che non sia gay Magari è gay Si ma non è che Si chiama gay Ma l'animazione Asobu gay love L'animazione di ombra notturna E questo è il motivo Per cui abbiamo cambiato In asobu e basta L'animazione di ombra notturna Dura 6 settimane Dura Non lo so No Mi ha usato Mi ha usato Volgibotta Dragonair Tu vedrai Quando qualcuno Ti farà ombra notturna Me lo dirai Cioè Dura veramente 60 anni L'animazione di ombra notturna Qua Non finisce più Ondula tutto La vogliamo Smettiamo La vogliamo Fra l'altro Acipicchia Gengar Che osso duro Da buttare giù Complimenti Signorina Ma scusa Buttagli Ipno Cioè Cioè È spettro È spettro Veleno È debole a entrambi In questa generazione Eh lo so Ma volevo allenare Volevo allenare Cosa volevo allenare Volevo allenare un po' Zappi zappi Oh Un centro pokemon Sia lodato Iddio Benvenuti al pokemon center Uè si Tutta salute Amico Vai Grazie di pokemon Sono in perfetta forma Arrivederci E dragoner Ci saluta È un'allenatrice Questa Sì Ah così a casaccio Gli allenatori davanti Alle grotte Bug Bugcatcher Wants to fight È kingler Però Cioè Mi mandi kingler Sapendo che Zapdos Ti vuoi del male Allora Allora Il fatto è che Sì Mi tolgo starmi Il fatto È uno che ha Consumato troppa droga Medusa Gli vogliamo bene Ah stai Eliminando qualcuno Della squadra Sì Sto togliendo Starmi E mi sto prendendo Oddish I will remember you Ma mica è morto Dov'è Oddish Massimice È come se fosse morto Allora Io entro Nella grotta Che Madonna Santa Come si fa A farla senza flash Questa Eh Te la devi Imparare a memoria È impossibile Cazzo È completamente Buia Meno male che c'ho flash Allora Andiamo avanti Primo pokemon Chi sarà Meno male che ho flash Ah lo sai che Actuali è un pokemon Che potrei considerare Di mettere in squadra È Cubon Che Shoshanna Cubon Shoshanna Il ritorno di Shoshanna Quindi non vale A intruso Oddio mi dimentico sempre Che Che Non posso paralizzarlo Cazzo Che gli racconto Lo uccido Tu ovviamente Lo puoi prendere Shoshanna Cioè anche io Lo posso prendere Se voglio Però Non 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 Il problema È che Lo uccido Con chiunque Gli mando in conto Forse riesce a resistere A Minchia Quanto fai male Amico Beccati questa È forte Guarda che forte Cubon Eh sì Mi sa che Shoshanna Entrerà in squadra Dimmelo Se vuoi ammazzarmi Cosa dimmelo Non lo so Guarda Ma sì Fatti uccidere Qualche pokemon Sì Ma no La mia squadra Sta prendendo Una forma perfetta Adesso Gli mandiamo Fallo morire No Non ci penso neanche E certo Contro ipno Usa ruggito Lascia che muoia Ipnosi Dormi Grazie Ammazza Il primo colpo Incredibile Madonna C'è un bambino Che Stanno facendo La goge spartana Qui fuori Che scosso Catturato Cubon Ma dai Ma nel pokédex È Il Cubon Il pokemon Solitario Ma che Tristezza Eh beh Gli hanno sdragliato La mamma Lo chiamiamo Lo chiamiamo Lo chiamiamo Lonely Lonely È stato mandato Al bill Di pc Stavo dicendo Al bill Di pc Allora Se Cubon Può imparare Taglio E suppongo Che possa Penso che abbiamo Trovato La sostituzione Per quella Troia Di beadrill Bills pc Deposit pokemon Fastidio Anche il verso È fastidioso Di fastidio Bellissimo Red Got Lonely Red È diventato Solo Contiene Taglia Vuoi insegnare Taglia Un pokemon Si grazie Eh no Invece No Amico Ciao Ah non puoi impararlo Eh pare di no Bella pezza Eh torna da me Fastidio Fastidio Eh infatti Red got fastidio Red è infastidito Che bellezza Sta facendo Sta facendo Tutte le Le cose Del Del disagio Si sente Solo Si sente Infastidito Modra un po' Se incazza pure Mi incazzo Perché non Trovo Mewtwo Per completare La mia squadra Ci vorrebbe Mewtwo Eh Non sei d'accordo Sì dai Tanto Eh Te manca solo quello Allora Pokemon Culo Flash Vediamo Chi altro Avrei potuto Incontrare In questa grotta Bellsprout Che sono felice Di non aver incontrato No dai Bellsprout Un che Sono 20 minuti Eh Di già Ah ci pigna Signore Eh si Allora io direi Fermiamoci Fermiamoci Ho appena incontrato Un golem Che fra l'altro Aiuto Allora io Ad avanti Eh si Intanto fuggo Aspetta Perché il golem Ah no Io sono Io sono per sbaglio Entrato dentro Un combattimento Quindi vai avanti Allora vado avanti Però cerco di non entrare In un combattimento Esploro Eh niente Devo entrare per forza In un combattimento Anch'io Ma dai Ma davanti a un allenatore Ora si bugga tutto Guarda eh Ora mi si bugga tutto Perché davanti a un allenatore Ho incontrato un pokemon No ok Semplicemente Uscendolo alla battaglia Col pokemon Ti fa entrare In quella con l'allenatore Un tecnico Vuole combattere Vabbè beccati Per forbecco Per forbecco È una mossa veramente Incazzata Da dare a Zapdos Se consideri che Moltres Ha beccata Ma dipende pure Da livello Eh no Di base Perché ho incontrato Dei Moltres Più o meno Del Del livello Del mio Del mio Zapdos E non usava mai Per forbecco Usava solo beccata E sono quasi sicuro Che non possa impararlo Per forbecco Moltres No Questo non te lo so dire Sinceramente Questo non ha la più pallida idea Perché in teoria Zapdos è una specie Di picchio Picchiarello Quindi è per quello Che c'ha per forbecco Ah oddio Si sta evolvendo Oddish Figata Mi fermo O vado avanti Sto andando avanti No fermati Fermati Sono fermo Fatto 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 Ok Allora Salviamo Nel prossimo episodio Scoprirete Che pokemon Eh Ti devi star fermo Che pokemon Incontrerò Nella Nella grotta ricchia Che grotta Lui riuscirà A uscire Quella Il percorso roccioso Accipicchia Pure tu Mi hai raggiunto Sì perché Io ho fatto Una cosa Che non ti dovrei dire Però Io sono passato Ti gliccio No Io sono No no Io sono Sono passato Da zafferranopoli Per andare Eh Eh no Tu non sei passato Da zafferranopoli Tu sei passato Dal tunnel roccioso Io ci sono Già All'avandonia Ma come Sei già All'avandonia Ma sei un drogato Se Se tu esci Da zafferranopoli Sulla destra No Sto facendo Una cosa Inutile Forse Ma cosa Forse No Sicuramente Ma io Ti odio La vita E con questo Ti salutiamo Al prossimo episodio Ma vai a fare il culo Ma vai a fare il culo Sulla E lo strozzo Sulla Sulla Ma 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 Grazie per la visione!